Sono stati disegni dei bambini siriani raccolti dall'associazione I Colori della Pace ad accogliere i ministri degli esteri nella sala Ademollo, al loro ingresso in Palazzo Ducale. Disegni che parlano di guerra e di paura, un monito senza possibilità di scampo per i cosiddetti grandi della terra, chiamati ad arginare l'escalation militare in Medio Oriente. E soprattutto di Medio Oriente si è parlato al tavolo della sala Maria Luisa. Le somme del Vertice saranno tirate nella conferenza stampa di domani in San Francesco, ma sembra che gli Stati Uniti abbiano scelto Lucca per dare una svolta alla politica estera americana in Siria. L'amministrazione Trump vuole isolare il più possibile Russia ed Iran nel loro sostegno in favore di Assad. La seconda giornata del G7 si aprirà con un incontro allargato ai rappresentanti di Turchia, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Giordania e Qatar. Argomento proprio la situazione in Siria, con la speranza che da Lucca possa partire davvero il percorso di una soluzione diplomatica per un paese martoriato da anni dalla guerra.